Sono con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù disse alla folla, Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa, infatti, è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui, abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, stiamo celebrando questa Santa Messa in Italia.